ben ragazzi sono mario a nota 6 il prossimo video ragazzi il prossimo video siamo sempre qui sul tour de france 2021 subito un bel like iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e mi raccomando condividete il video con i vostri amici e i vostri conoscenti quindi andiamo subito dentro con il video raga è oggi tappa pianeggiante ma con l'incognita del vento quindi possibili ventagli nella parte finale di questa tappa non sei mai la gialla con vincenzo nibali secondo posto per evan e pull e terzo posto per banair e quindi via un po come andrà questa tappa noi ci proveremo un po con stuyven oppure con peterson ora abbiamo un po e andiamo subito alla partenza raga e siamo a 6 chilometri e 100 metri dal traguardo siamo con stuyven dobbiamo provare a vincere questa questa tappa oppure diciamo tentare una top 3 ma la cosa più bella sarebbe quella di vincere questa tappa c'è un numero traguardo raga c'è anche sbaragli c'è team balance ritorna dragon call che tira la volata a cale b1 è un po e c'è anche philipson siamo a 3 chilometri 800 metri siamo a ruota di guarnieri diamo questo arrivo è anche un po complicate comunque non è una volata semplice diciamo c'è anche moschetti della nostra squadra c'è 300 metri raga curva a destra e andiamo raga quasi ultimo chilometro stuyven vediamo siamo in terza posizione e parte la volata parte la volata raga 900 metri al traguardo c'è philipson ewan c'è banair ti rimonta e noi chiudiamo siamo un po terzi credo e ha vinto a metrius ed eccoci qui raga appunto ha vinto questa sesta tappa metrius secondo posto per banairt e terzo posto per il nostro pedersen noi abbiamo quarti con spu even quindi raga subito un bel like e ora andiamo alla classifica generale ed eccoci qui raga classifica generale che c'è sempre al comando con vincenzo nibali secondo posto per banairt a minimo secondi e terzo posto per evene pool a 25 e 6 secondi chiudere la top 10 rici port non mi deconano un secondo per cambiare con subito un bel live comandate condividete il video iscrivetevi al canale se non siete nuovi iscritti guardatevi i video appunto di questa serie sul tour de france 2021 da mariontase è tutto bella ciao